la sedia stampa del mattino buongiorno ben ritrovati giovedì 15 ottobre 2020 subito di corsa a vedere il santo del giorno oggi è santa teresa d'avila andiamo in spagna dottore della chiesa il sole sorgerà le 7 25 e tramonterà le 18 e 28 e adesso andiamo a vedere il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi avremo ancora nella prima parte della mattinata rovescio temporali sparsi più insistenti nelle zone interne esaurimento nella mattinata poi una breve pausa e di nuovo nel pomeriggio isolati rovesci nelle zone appenniniche ma anche in collina temperature in diminuzione poi domani venerdì 16 ottobre ancora nella mattinata tarda mattinata rovescio temporali sparsi soprattutto in sulla costa pesarese anconetana temperature insensibili diminuzione sabato 17 ottobre ancora cielo perturbato su tutta la costa fenomeni assenti nel pomeriggio temperature diminuzione poi il tempo migliora allora giro d'italia poi abbiamo acquaroli che presenta la sua giunta e quindi i suoi assessori ma abbiamo anche il problema del covid che sta peggiorando in tutta italia anche nella nostra regione risparmiata per il momento e stiamo andando bene teniamo duro la provincia di peso urbino con meno contagi rispetto al resto della regione cominciamo a vedere i titoli d'apertura allora partiamo dal resto del carlino la fotonotizia per il giro d'italia che vince sempre la carovana da fano a pesaro successo nonostante la pandemia tripletta il governo della regione invece confermati tre assessori della nostra provincia carloni baldelli aguzzi oggi prima uscita pubblica e poi il contagio vola dicevamo ma gli infermieri sono pochi biagiotti non basta non bastano i nuovi laureati dobbiamo aprire all'ingresso di più studenti poi anziani e lo spettro del covid nelle case di riposo torna la paura visite proibite il caso della famiglia nuova di fano ingressi sospesi in via precauzionale adesso il corriere adriatico corriere adriatico che apre con il covid raddoppiano i casi allarme teenager allarme giovani un contagio su cinque tra chi ha meno di vent'anni alla media padalino due classi in quarantena la preside dice nessun ritardo ma marta ruggeri dei cinque stelle in calza a velocizzare il tracciamento dei positivi a centro pagina nuova regione ecco le deleghe la lega prende anche l'agricoltura vedremo tra poco in breve disposizioni fumose virus e bar e ristoranti chiedono chiarezza sempre a pesaro sorpresi due corrieri della cocaina arrestate al casello con la droga e poi l'intervista a cesare canaroli ex sindaco di fano accusa il pd ha sbagliato l'abc cioè le cose più elementari ora le infrastrutture poi il fascino del giro d'italia il tifo con la mascherina nessun assembramento è stato sanzionato l'assessore dice disagi inevitabili ma contenuti andiamo sulla pagina del carlino di ancona il virus dilaga corsa contro il tempo acquaroli pensa di stoppare il calcio dilettantistico movida e scuole netto aumento i contagi tra i ragazzi quel concorso era truccato ospedali riuniti per la finanza un medico avrebbe fatto da avrebbe fatto vincere la fidanzata il virus adesso marcia spedito ricoveri in aumento sono 72 impennata nelle marche nell'anconetano dilaga tra i ragazzi di 10 in età scolare focolaio a falconara 7 molti positivi sono per contatti domiciliari salgono anche le persone in isolamento a casa dunque schizzano 72 i ricoverati i ricoverati nelle marche ben 12 in più rispetto al giorno al dato di martedì conte il premier e il lockdown a natale attenzione dipende da noi il virologo crisanti dice è nell'ordine delle cose il governo pensa ad una nuova stretta lavoro confermata la fine di bloc del blocco dei licenziamenti intanto l'infettivologo galli aggiunge per passare delle feste serene dobbiamo investire subito questo trend ora le previsioni statistiche non sono confortanti secondo olivio fenga dell'istat e dice il 7 novembre i contagiati potrebbero essere quasi 116 mila in pratica la seconda andata potrebbe essere agli inizi e quindi se i numeri sono questi non è inverosimile pensare ad un lockdown almeno localizzato per le regioni più esposte il boom questa è una intervista che alessandro malpelo ha realizzato con l'epidemiologo carlo la vecchia 65 anni docente all'università di milano già capo dipartimento all'istituto di ricerche farmacologiche mario negri la leggiamo perché è importante il boom un altro picco e poi l'estinzione dalla spagnola la sars così muoriono i virus scrive appunto e risponde il professore le previsioni più ottimistiche dicono che il calo potrebbe venire alla fine dell'inverno o secondo semestre del prossimo anno di certo l'arrivo di un vaccino cambierebbe però lo scenario in caso contrario si ridimensionerà comunque perché scende la quota di persone suscettibili all'infezione e dunque sarebbe allora una malattia endemica che ripresenta i numeri più limitati occorre però fare grosse distinzioni la spagnola come influenza fu una malattia totalmente diverso questo coronavirus è simile come famiglia la sars ma si comporta in un altro modo la sars era più grave quando nessuno se l'aspettava scomparve questa sars questo sars cov 2 però è stabile ed è una caratteristica che facilita la messa a punto del vaccino oggi fatta l'eccezione per le persone molto fragili nella stragrande maggioranza dei casi non porta a morte la spagnola invece fu un flagello uccideva i giovani gli anziani avevano una sorta di immunità che derivava dalle epidemie influenzali di fino ottocento uno degli aspetti di questa pandemia è che risparmia invece i bambini e soprattutto gli adolescenti questo meno male dice l'esperto senza altrimenti saremmo se avesse colpito i bambini saremmo disperati poi si parla di queste grandi pandemie che cosa ci insegnano beh la risposta è da milioni di anni conviviamo con i virus e ogni volta il fenomeno ci sorprende ma per la prima volta nella storia del genere umano monitoriamo con teste che permettono di cogliere anche gli esintomatici e lockdown sono stati una misura senza precedenti verrebbe da dire insomma senza i social network senza tutta questa comunicazione che va e viene al tempo di un amen forse sarebbe stata una brutta polmonite gli italiani non credono però più nella democrazia politici inaffidabili questo è un sondaggio ci governiamo dunque da soli nell'indagine ipsos quasi sei intervistati su 10 sono delusi dall'attuale forma di governo percepita come lenta e costosa cresce la voglia di un referendum di leggi di iniziativa popolare emerge l'emergenza pandemia solo il 30 per cento teme la deriva autoritaria sulle quarantene sui tamponi siamo sulla pagina di pesaro dell'arresto del carlino sono in arrivo nuove direttive parla eugenio carlotti responsabile del dipartimento di prevenzione a revasta 1 l'attività di tracciamento grazie alla quale sono state messe in isolamento fiduciario quasi mille persone fa sì che da noi il contagio resti sotto controllo chi ha più esami positivi ma è senza sintomi da almeno 20 giorni potrebbe tornare alla vita normale senza il bisogno di sottoporsi a nuovo test quindi migliorerebbe un po' la vita di queste persone che non stanno male stanno bene sono solo positive ma che devono poi fare i conti con il calvario tra virgolette dei tamponi timbri quant'altro rsa invece il problema delle case di riposo e del covid a fano torna la paura stretta sulle visite la ascop che gestisce la struttura famiglia nova ha disposto l'immediata sospensione degli ingressi ai familiari questo a titolo precauzionale il repentino aumento dei contagi ci ha convinti ad agire per tutelare soprattutto i più deboli intanto di taglio basso sulla pagina di fano del carlino si parla del rimpasto di giunta chiuso il cerchio il sindaco seri si tiene la cultura entra brunori consigliera di noi città al posto della dimissionaria caterina del bianco tornando al covid sulla pagina del carlino covid a scuola la preside noi tempestivi la dirigente della padalino silvia faggi grigioni dice la situazione complessa serve una riflessione però dove ci sono due classi dice e una decina di prof in quarantena diciamo seguiamo i controlli quindi rassicura un po tutti quanti padalino sono due le classi in quarantena la preside non ci siamo mossi in ritardo dice al corriere adriatico circa 50 studenti 10 insegnanti sottoposti al tampone la preside genitori state tranquilli il rebus del drive test tutti si sono rivolti ad urbino ma lo stesso servizio è garantito anche al codma di rosciano intanto da pesero mai più seggi nelle scuole nelle scuole arriva la mozione unitaria i nostri locali sono posti sicuri dicono i ristoratori non stiamo non siamo gli untori della movida la protesta dei titolari di ristoranti e pub vogliamo incontrarci con il prefetto di pesero con la polla e con le forze dell'ordine paolini responsabile dei bar stagionali dei ristoranti insomma dei locali stagionali dice se a mezzanotte ci fate chiudere poi gli assembramenti si creano altrove intanto per chi ha la passione delle carte va a giocare a carte alla circolo ACI piuttosto che insomma nei vari circoli per anziani le indicazioni della cna sulle attività ludiche è di i mezzi di carte sostituirli spesso e poi di stare comunque un metro tra giocatori siamo sulla pagina sempre di pesero del carlino divieti solo la notizia si è con la notizia si è perso il 20 per cento della clientela l'allarme di confesercenti per bocca di stefano fiorelli presidente dice le chiusure anticipate ci porteranno invece ad un altro meno 20 quindi in totale meno 40 per cento a fano la città è senza cinema ancora per poco però giovanni casanova di società esercizio cinematografi tornerà a gestire il politiamo e il malatesta sarà partner di fulgor di rimini le norme prevedono ulteriori misure restrittive ma noi non ci scoraggeremo poi palazzo braccia e chiesa di san marco due weekend per ritrovarsi con il fai e poi carte etiche arti marziali panathlon fano c'è sulla pagina di senigallia invece l'hotel covid è già pronto ora servono i fondi la caritas diocesana attivato la struttura messa a disposizione da un privato utilizzata all'inizio della pandemia sono tanti quelli che iniziano a chiamare allarme virus è stata annullata la festa dei popoli troppi rischi intanto a corinaldo gli eventi vanno sul digitale per i lavori dal ponte del 2 giugno invece senigallia centro storico stop alle auto in via bramante a senigallia ladri alla bocciofila scassinate le macchinette allora andiamo adesso a vedere la pagina politica acquaroli tiene porto aeroporto e turismo tre super assessori per sbloccare le marche il governatore ha chiuso la partita per la giunta oggi la presentazione della squadra il carlino nuova giunta la tripletta della provincia provincia quella di pesaro carloni alle attività produttive agricoltura baldelli alle infrastrutture aguzzi all'ambiente ancona e fermo restano all'asciutto mentre il presidente del consiglio sarà dino latini gli industriali però sono molto dure per questo per il fatto che insomma non hanno rappresentanti in in giunta è una vergogna dicono con durezza gli industriali di ancona è impensabile non avere un assessore regionale di questa provincia resto dice schiavone incredula ma sono sicuro che chi è entrato ha le competenze giuste c'erano competenze che si potevano mettere in campo le categorie economiche non sono soddisfatte ma gettono in parte acqua sul fuoco capoluogo scomparso in giunta nessun diritto ma fa la differenza schiavone leader di confindustria un interlocutore del territorio sarebbe stato fondamentale questa è la pagina invece del carlino di pesaro ancora una bella foto notizia tutta pagina il passaggio dei ciclisti lungo la statale all'altezza dell'incrocio con aldo a largo aldomoro nel cuore della città di pesaro pesaro che regge l'urto del giro tanti spettatori in strada e vicini tutti però avevano la mascherina all'alberghiero santa marta una classe esce dice quando passano vogliamo incitarli poi gli anziani con le sedie sul marciapiede per godersi appieno lo spettacolo però c'è stato qualche difficoltà anche sul traffico il tir si è incastrato alla rotatoria disagi del traffico prima della corsa l'autista ingannato dal navigatore doveva andare a montellabate si è ritrovato in zona porto a 10 km con ingorghe diverse lamentele anche alle 13 all'incrocio di ponte di soria fano che emozione anche senza il traguardo gli incroci presidiati da circa 100 divise narita montagna la comandante della polizia locale di fano dice consentiti gli attraversamenti in sicurezza un grazie anche all'ufficio mobilità la corsa rosa sfreccia a fano titolo del corriere un anzi sfreccia con mezz'ora di anticipo la statale è stata riaperta prima del previsto gli appassionati non rinunciano poi ad applaudire palazzo di giustizia invece rivoluzione digitale sul fronte della sicurezza iniziata l'installazione della termocamera intelligente per monitorare la temperatura di chi accede in caso di febbre un segnale acustico avvisa la guardia giurata sostituzione della video sorveglianza questa invece la fotografia del tappo sul fiume foglia con le ruspe in azione l'assessore di pesero belloni dice non esistono interventi risolutivi quindi più o meno questione di tempo poi tornerà ma questo è il corso della natura avviata la bolinfica invece all'ex opera damiani siamo a cagli il complesso costruito dal sacerdote sul petrano negli anni 60 era oggetto di pesanti critiche per lo stato di degrado architettonico siamo allo sport abbonamenti o biglietti ecco il dubbio del fano la società verso la riapertura dello stadio ai tifosi dopo il decreto del governo potranno entrare in circa 400 tra curve tribuna già con limolese oggi c'è una riunione con il gos per il definitivo via libera all'ingresso dei sostenitori granata al mancini e dunque vedremo che cosa decideranno sotto l'aurora fano scala la classifica adesso è al sesto posto in italia nella gara di porto san giorgio le ragazze hanno totalizzato un punteggio di 89 e 500 guadagnando una posizione andiamo invece adesso sulla pagina dove si parla di vis guardate questa fotografia storica tra angelo becchetti lo vedete in questa immagine che compierà 92 anni fra un mese qui con il portiere giorgio ciaschini che i fanesi conoscono molto bene anche i fanesi conoscono molto bene visse con la triestina attorno ai tifosi becchetti stadi vuoti allucinanti l'ex tecnico senza pubblico era sparito il fattore campo per fortuna in 440 si riprenderanno e si riprendono il benelli delusione invece vl solo 200 posti a sabato al palazzetto lo sport al palace dalla regione nessuna mossa per cercare di ottenere la deroga che avrebbe consentito mille spettatori per la gara contro il trento e dunque immaginate un palazzetto un palace così grande con soltanto poche persone praticamente sono invisibili spariscono ieri la società aveva reclutato gli steward per regolare gli ingressi ora la prevendita invece è in forse e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa del mattino rassegna che torna domani mattina come sempre alle 7 puntuali in diretta questa sera invece le 20 e 30 c'è il telegiornale grazie per la vostra attenzione a voi tutti l'augurio di una buona giornata